Ciao a tutti ragazzi, sono Adrian faccio l'intro nel mio canale dovrebbe essere il mio secondo canale il mio primo canale si chiama Golden Adrian è un canale adesso la musica questo canale l'ho fatto perché vuole fare i vlog ho visto tanto youtube perché facciamo i vlog quindi ve lo provarò anch'io questi vlog come saranno? normali, come i giri in bici come potete vedere qua faremo così, i giri in bici dalla foresta, così per strada con gli amici questi qua entrano nel mio canale farò due giri con la bici che riprenderò con il mio GoPro ci vediamo subito was the night in shining armor in your movie put your lips on mine and love the end of days now I'm a ghost, I call your name, you look right through me you're the reason I'm alone and masturbate I, I've been trying to fix my pride I'm out and all the time I, 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 hurt them and say I, 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 sample of the I, 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 heard me say I, I, I'm out and all the time Was the night in shining armor in your movie Put your lips on mine and love the aftertaste now I'm a ghost, I call your name, you look right through me You're the reason I'm alone and masturbate I, 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 I've been trying to fix my pride But that shit's broken That shit's broken I, 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 I I'm out Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501